perfetto bentornati con tnt palermo siamo di nuovo sul vlog essendo bloccati dove c'è il boss di questa zona perché siamo in una zona dove il livello consigliate il 25 io non so neanche a che livello sono in questo momento che non è la parte 2 e c'è il palazzo giallo brucia del coraggio serrati abbiamo fatto l'ultimo abbiamo fatto il livello consigliato 17 e diciamo che abbiamo avuto i nostri problemi quindi andiamo qui dopo scelte perché se tutti i campi di battaglia principali non ancora completati vengono salvati perciò per riprendere giocare a bandera a battaglia attuale sì perfetto che così andiamo saliamo di qualche livelluccio e poi torniamo qui a fare i simpaticarimi allora quindi questo dopo praticamente il continuo della storia perché abbiamo fatto fino adesso la pubblichiera dopo ecco sì stiamo tornando indietro davvero arrivati di cielo turban remnance are giving us quite a bit of trouble non so che la persona non mi aiuta qui che giù e 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 giù io d'oro stavano andando una mano ma tu a me posso crepare altra volta mi saliva a questa volta no no non mi spettano torta c'è più strada da esplorare sono accaduto con un pollo adesso che è lei la prima이다 secondo me è stata una storia per le giocare e giù e giù e giù è una storia per il giù e giù e giù e giù e giù e giù eh vabbè allora dillo che mi devi rompere le scatole non ce la fa non ce la faccio io c'è tanto andare a non ce la faccio a tornare si vabbè chiaro meglio che non parlo allora di nuovo oh 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 z ah yeah e z 0 e sì no ma non è un po' di riparli è un po' di riparli è un po' di riparli è una cosa una shot in trilano dovremmo avere boss in questa zona perché lo sconfitto è l'andare è io a qua non riesco schivarlo No, 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 no. potremmo richiamare un aiuto però non essendo di drama se muoio scompare quindi tanto male no io ho molta fiducia sulle mie capacità che volevo fare equipaggiamento 218 150 186 sull'accelerà più dura 160 non mi interessa vabbè questo è l'ingresso alla caverna che ce l'ha fatto il tizio e die non c'è il boss ci sono dei barbari scendiamo dall'altro lato così faccio piano piano la strada sicuro di non perdere nessun passaggio importante ebbè ti è piaciuto no ho messo allora siamo arrivati da qui di qua mi sa che siamo arrivati di qua e la strada era aperta di qua finché dove abbiamo combattuto contro il boss nella precedente area quindi niente abbiamo tornato indietro dal nostro lato abbiamo trovato gli sbabbari e voi chi siete onni siamo una tribu di gbarbari non c'è facciamo di corsa non ci fosse un domani non ci fosse un domani non ci fosse un domani Scusi, dove hai scoperto? e ci prenderà più di me uccidere la marcha dei turbinoli gialli, ho credo, e un grande mentor di sage. Ancora Ora puoi preparare per favore Grande Vittoria gloriosa E tu adesso arrivi La potevo fare con più calma No Ho sbagliato Provo lo stesso campo di battaglia No adesso Vista che questo l'abbiamo completato Ce ne andiamo in un altro campo di battaglia Quindi queste missioni Che sono fuori dalla linea Temporale Ce l'abbiamo fatto in dieci minuti A buon attimo Oh no Eh viaggio Il paradiso giallo brucia Quindi il paradiso giallo brucia L'abbiamo fatto con gli storia di Guizzi Eh scusami Oh no Andiamo... Chi non ha sottolineato anche con Zhang Bao morto. Questo non può essere bene. ... ... ... ... ... Puoi che mi aiutarti? Il flotso di chi è risolto. Restai alerta! Non, ancora non ho finito. Non posso combattere così. Mi, mi, mi sono scoperto. Grazie, non mi farò la stagione di nuovo. Oh mio, sono più difficili da che pensi. C'è un po' di loro, la victoria è la nostra! Come va, come va? C'è lì brava Non c'è un po' che c'è un po' Non c'è il problema. Ah, non c'è il problema. Oh! Perfetto! Ha dato un colpetto lei! Tutto finito! Vittoria gloriosa! Finito così! Seleziona un altro campo di battaglia, quindi il paradiso giallo brucia! Storia tipo Izzy! Vabbè, principale quindi sono i missili principali! La ronda in un volo di Aisha! E andiamo! Secondo me è più lungo! Questo l'abbiamo fatto in... 5 minuti! Vabbè era solo un boss! Neanche un boss principale! Però comunque ha spaccato! Forse perché inizialmente l'ho preso troppo sotto gambe! Ho detto vabbè adesso lo ammazziamo subito! E in verità... Mi stava rompendo il deretano! Quindi, quindi, quindi... Ahia dove siamo qua! Ok! Allora... Potenziamento! Utilizziamo... Io sono a livello 25 in questo momento! E quello mi spaccava di brutto! Vabbè! In questo momento il mio equipaggiamento è 13 di peso! Cioè penso che la mia... La mia armatura non blocchi niente! E lasciamo stare! Quindi... Andiamo avanti... Andiamo avanti... Avvente un attimo! Vediamo se c'è la possibilità di... Asponere qualcosa... aspetta prima esprimo la zona in alto e poi cominciamo a scendere io lascio niente di non è controllato per solo zombie vabbè se lo smetto di fare con il licio il mio coraggio è salita a 1 risaltavamo contro vabbè dai andiamo passo passo perché mi metto a controllare millimetro ma in millimetro però non andiamo neanche avanti sotto c'è un bel nemico ok andiamo dall'altro lato intanto alla vigliacca diciamo con quelli più piccoli da ammazzare e poi andiamo con l'intribestiamo scendino di qua no adesso no ma non c'è una scatola ok non ho scato una scatola allora sotto si deve entrare il casino scendiamo tutti i piani rialzati e poi scendiamo ah è uno che sta facendo i magheggi ma veramente mi stavo attaccando da quella distanza ne ha coraggio di là si torna indietro cominciamo a scendere cominciamo a rientrare ok ok solo di destra ok stavo di destra E' andato. Allora non c'è niente non c'è niente lo sento, lo sento, ti trovo te dove? a sopra non c'è niente allora, lì sotto c'è l'ultimo schifo da liberare però io voglio provare guarda che c'è qui dai mangiassu oh guarda che c'è qui? guarda che c'è qui? guarda che c'è qui? wow tutto sto casino per nothing vabbè che voglia ci siamo stati, che voglia ci siamo stati andiamo avanti tu sei sicuro che voglio andarci in diretto? siiii hai sbagliato persona? io sono un vigliaccone perché mi ha seguito in dark souls dovrebbe saperlo quindi quindi c'è solo quello? sono chung yen chung yen è mio nome a che punto siamo? a che punto a che punto Il limite è andato, è andato. Vittoria gloriosa! Non sono come quelli stupiti fanatici! Ti sorriso! Spero la loyaltà all'imperial court! Ah si è arreso, è ancora vivo, dove sei? Vabbè... Allora... Torniamo a trovare i campi di battaglia, vediamo se è vero, perché avremmo dovuto... ...far tutto quello che era possibile fare. Eh infatti siamo di nuovo qua. Da dove eravamo arrivati? Eh... Viaggio... Tutto completato. Va bene. In 30 minuti abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare. Il paradiso giallo brucia, storia di Guizzi... ...e la rondine in volo. Ok... Dai... Ragazzi... Mi sa che io tra poco riattacco e provo ad abbattere sto boss... Per chi mi segue in live, per chi vede il canale. Alla prossima! Ciao ciao! No. No.. No. 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 Grazie a tutti